E ragazzi, come va? Io sono Ferenike E io sono Stef, che se oggi chiamo a Fortnite E benvenuti in un'episodio di Fortnite in cui andremo alla ricerca della nuova arma che è stata appena aggiunta Esatto Perché ancora non siamo riusciti a provarla del tutto Quindi dedichiamo questo video Eh, che c'è? Scusa, io non ti volevo interrompere Io stavo parlando della nuova Ho visto, e tutti l'hanno visto, un tipo volare Perché non aveva caricato il secondo ponte E questo camminava nel vuoto Ma ero vicino, eh E tu mi interrompi, però Ero vicino, Consolini Io l'ho ammazzo, io l'ho ammazzo Scrivete nei commenti se l'avete visto Scrivete hashtag uomovolante Uomovolante hashtag Scrivetelo, perché è stato bellissimo Andiamo qui, Stef Dove? Di nuovo? Espirita, cosa vuoi dire, signorina? Consolini è stata davvero una bruttissima esperienza Perché poi voi non vedete tutti i game che non pubblichiamo È stato proprio il disastro Hanno capito nome anche di laboratorio della latrina L'ho notato adesso Ah Che brutto Ma perché lo chiami della latrina? Cioè, era un bel posto dove andare Cosa c'entrano le latrine, Ferenike? Cos'è la latrina? La latrina penso che sia una sorta di scarico Vabbè, allora Qualcosa del genere Però è un brutto nome, non mi piace È certo che è brutto Comunque Puntiamo il nuovo fucile Dato che nello scorso video non siamo riusciti a provarlo bene Vogliamo vedere un pochino Quello che stavo dicendo prima che tu vedessi Beh, scusa Cioè, tu vedi uno volare Adesso tu sei per strada che stiamo camminando Parliamo di un film Parte un UFO Arriva un UFO e tu non ti fermi Io ce l'ho ammazzo Mi fai, Stef, c'è un UFO E io ci faccio Oh mio Dio, Ferenike, c'è un UFO Quindi tu hai istituto a fare Oh mio Dio, Stef, c'è un uomo volante Che però non vola È semplicemente il gioco che non lo dà le cose Io sono salita qui sul tetto perché ho detto Oh, che bello, c'è un'arma Invece sai che cos'era? Il nuovo fucile Io lo cecchino Dov'è? Dov'è? Ferenike, non morire Ci serve quel fucile Ok? Ci serve Sì, l'ho capito Ma se lo inauguro uccidendolo Secondo me è meglio No Non lo vedrebbe nessuno Ok? Sì che lo vedrebbero tutti Dovevo dirti la trista verità Lampacucile, chill Eh, due player comunque Ok O di più Ok, ok No, è una domanda Ah, non lo so Io ne ho visto solo uno cadere Quindi suppongo due No, io due Ok, allora due Vieni a avvicinarti a me? No Non vorrei vederti morire Non voglio venire Ok È brutta Lo so Sembro un pesce palla Tu sei un pesce palla No, ho detto sempre Ti sei fregata Eh, non ti sto ascoltando Perché sono concentrata A sentire se sento passi Muori Allora, mi tiro due shield È ubriaco oggi Ha bevuto Uno Non me l'hai detto Ma hai bevuto Due Ho la balestra Pronta? Vado? Ciao, Steph Mamma mia Dammi il colpucetto E ti do la balestra Ok Ma che ok Grazie Un colpo, grazie Sempre gentile Aspetta No, Pere Pere Ce li ho Gioca Ne ho altri sei, li vuoi? No Dai, ma che schifo Sono rimasta senza armi Perché le finestre Sono fisiche Io ci sto ancora provando Certe cose potrebbero ogni tanto anche sistemare Ma non era una finestra tecnicamente aperto È appunto, anche peggio Senti la cesta? Sì Qui dentro c'è il nostro pompa Se lo dici tu Non c'è la cesta La cesta abbiamo sentito No, io non l'ho sentita Ti ho detto sì Ma non l'ho sentita nulla Vicini Dov'è? Verso nord Ok Hanno già lutato qua? Eh sì Ma prendo la pistola È sempre bella Ah, forse è tutto sopra Vieni, torniamo lì Io non ho il pompa Non voglio faitare senza pompa Non mi piace Sì Era qui, porca miseria Ma se non lo troviamo Mitraglietta È bella Prendila Vieni, vieni, vieni Andiamo Dobbiamo ammazzarli Basta Stiamo qua ridendo Scherzando Tutto il tempo Non va bene Sopra il tetto Ok Che cavolo ci fanno sopra il tetto A guardare i pesci? Ma che cavolo, non ne so Ma i pesci no Al massimo le farfalle Steffi Li tiro la sniperata con un nuovo fucile Pronta? Vai Ma sopra che tetto? Quello? No, più avanti Adesso sì Lo vedi l'afro? Ma che cavolo Headshot con quello Oh mio dio Dove è l'altro? Chi è che vuole morire oggi? Dov'è Stef? Di fronte a me Ma di fronte a te dove? Qui Qui sotto Aspetta, sono dietro e non mi vede Fede, potevi anche arrivare Grazie di aver apprezzato Sarebbe stato un bel momento Prova Buttalo giù Buttalo giù immediatamente Steffi, avevo la pistola e il pompa fucile È stato terribile combattere così Mi ho shotato uno con un fucile E l'altro con la pistola Vuoi l'applauso? Va bene Ti dì l'applauso Applaudi? Pla, pla, pla Era un applauso Perché ho le mani occupate Quindi te l'ho facendo il pensiero Capito? Cosa mi fa fare? Che poi vedevo i suoi capelli d'afro Perché aveva i capelli d'afro? Sì Sì Prendi il pompa blu? No, no, no Ce ne va davvero Allora, buttiamo Io ti ho fatto Non vedi l'afro? Boom, headshot E io ti ho fatto anche sì Quando non avevo manco capito Che stavi intendendo Che bella giornata oggi C'è molto caldo in questa stanza Per quello che stiamo vaneggiando Sì, siamo un po' strani oggi Allora Shield Allora Me lo tiro subito Allora Hanno fatto ponti in tutta la città Questi, guarda Eh Da una parte all'altra Senza manco scendere Allora mi sistemo al volo Le armi che sono davvero messe Nessuno ha trovato in tutto il posto Un M16 meglio del bianco Wow Tristezza Vabbè, c'è questa cesta Allora, Steph Scar Siamo lontani ma non troppo Quindi direi che magari C'è uno shield grande se lo vuoi Sì Tutto giù Però è il caso di iniziare a muoverci Sì, l'avevo già visto dove siamo Inutile come dici Steph ha già controllato Dove sei? Steph, spara gli afro Vieni Tutto giù Nella cesta classica Che nascosta dalla cosa in legno Dai, lo sai Facco un muro perché non ho capito Allora, prendo maz Prendo munizioni Adesso arriva qualcun altro E ci rovina la festa Io lo so Io lo so che vengono a cercarci Ovvio Mi approfitto mentre finisci di prendere quello di tirartelo Per prendere l'altra legna E poi Andiamo via Avrei voluto almeno Io ho uno di legna Uno? Come Cioè è un primato questo Non so come ha fatto Non so come sia possibile E ti sei impegnata Ma io ho uno di legna E certo Allora E vabbè Questo non lo prendo Te lo devo fare La mitraglietta non mi dispiace nemmeno Ma Uno shield in più Ah, nel mentre che corro Li faccio Balestra viola Se la vuoi cambiare con quella che già avevi No, l'ho già buttata Ma che scherzo Ah, ok Che schifo Penso che ti avessi tenuto Era il mio regalo No, grazie Butta i miei regali Maledetta Te lo meriti Maleducata Eh, lì sopra Ha un altro pompa blu Ma tu ce l'hai già il pompa blu, vero? Ho pochi colpi, eh Però ce l'ho Ok Hanno lutato bene qua Dai, andiamo via Ci sta Ci sta, ci sta C'erano due pompa blu lì Tutto pompa blu Cosa hanno M16, eh? Eh? No? No? Niente Andiamo Allora, e dicevo Shield Ne ho uno Eh, aspetta Dato che ho tre medici Tu non me lo tiro Sono a 66 di vita Ah, beh, sì Sì, 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 in effetti Ok, ok 420 di materiali A difenza di ferro Che ne ha 17 Ok Quindi dovrò costruire io Nel caso in cui ci sparano 43 adesso 180 colpi di M16 Che dovevo anche ricaricarlo Un colpino un po' Un po' questi Sì, che mi servono E fucile nuovo Player di fronte a noi Dov'è? Tra 300 e nord ovest Nella collina Non so se mi ha visto Però mi è sembrato di sì Cioè, si è mosso Come se mi avesse visto Vedo due testoline Ah, eccole Sì, che ci hanno visto Ci ho provato No, non mi piace Non mi piace Non mi piace questa situation, eh Ok, che voglio provare Il nuovo fucile Fere Dove? Alla destra Ma dove? Lo vedi? Ah, c'è la zona Cavolo Corri, Fere Corri Evitiamo il fight Allora, c'abbiamo qui lì La stessa che a quanto pare Faitavano anche con altri Abbiamo fatto bene a scalpa via E ne abbiamo uno di fronte Non so esattamente bene il punto Ma l'ho visto che era qui vicinissimissimo Molto vicino? Sì, sì, sì È proprio entrato qui Quindi è lo stesso nostro punto Secondo me è andato Nella zona del ponte Ok E infatti Stanno fightando loro Con i tipi Non spariamoli Vuoi un medic kit? No, ce l'ho, ce l'ho Me lo sto tirando in questo momento Grazie Ok, mi guardo intorno Nella speranza che non arrivi Altra gente Siamo solo in 23, Fere Solo in 23 Sì Cavolo, non me ne ero accorta Allora Speriamo che abbiano finito con il fight Adesso mi metto con un nuovo fucile Ok Ok, aspettate Ferma Sì Allora, li ho colpiti abbastanza Ma ho fatto una figuraccia con un nuovo fucile Proprio sono stato tristissimo C'è arriva addosso? Sì Un po' l'ho colpito È qui dietro Ok, ucciso Bravissima Perché è stato morto? Non lo so, è morto subito Uo, occhio, occhio, occhio Stef Sì Lo so Ma non voglio morire così C'è un altro nuovo fucile Preso Io lo prendo Sì, sì, sì Fere No, non è vero Aiuto Ma che mi fa venire un colpo E lo so Ma che cavolo È un momento terribile Andiamo via Sì, andiamo via Ehi Cavolo Si è messa a malino Eh, lo so Vieni, 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 vieni Passiamo da questo lato Perché è stato morto? Non erano un team? Forse i due hanno ammazzato uno E ne avevano ammazzato l'altro Sì, non lo so Non lo so sinceramente Però è morto subito Quindi Ho fatto una figuraccia Tu non hai idea Ma proprio brutto Cioè, era lì fermo Di spalle È sbagliato Pim, miss Ma come? E poi l'altro L'headshot Cioè, una via di mezzo Stef Colpisci sempre al corpo E vabbè, ti stavo abituando comunque È strano È strano È strano È strano Però sono stato io scarso Dai, cioè Bisogna essere oggettivi Io ci stavo provando a difenderti No, no, no Ah, cioè noi per entrare Dobbiamo entrare da pinnacoli Ah Quale bella notizia Quanta gioia nei nostri cuori C'è pure un airdrop Di fronte a noi lontanissimissimo Sembra che ogni nuovo aggiornamento che fanno Ci siano più persone cattive Capisci? Più sfige anche Eh, anche Però più persone cattive Forse si incattiviscono Man mano che il gioco viene aggiornati I player si incattiviscono Sono solo che io ho tanti Bei mazzi Tante belle cose Tante belle notizie nella vita È difficile calcolare una parabola senza mirino Comunque a me sembra un po' che il nuovo fucile Sia un'altra sorta di fucile a pompa che va male Nel senso Abbiamo la balestra Cioè fucile a cechino volevo dire Abbiamo balestra Ok E fucile a cechino E questa arma Il fucile a cechino è nettamente sempre il meglio Quindi mi sembra sempre quella cosa che un po' devi buttare dopo poco Non lo so Anche a me un po' sembra Bisogna capire meglio Però si va capito meglio L'unica certezza è che capire le parabole d'elite Senza neanche il mirino del cechino È ancora un po' più fastidioso Quindi va anche imparato tanto Se si vuole colpire da lontano Si intende E player che saltella a nord ovest Abbastanza lontano Non provo nemmeno a colpirlo Ok Anche perché siamo in zona di pinnacoli Quindi sicuramente c'è stata gente Seguimi Fara perché Dobbiamo continuare ad andare Si stavo facendo un po' di materiali Poi ho visto che dentro c'erano dei colpi del pompa Me li sono presi perché ne avevo davvero pochi Ok ma È morto qualcuno lì? Boh Quelle lucine Non lo so No 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 Sono cespugli? Ma che cavolo Si Steph sono cespugli dai Ma porca miseria Va bene effetti come scendi sembravano eh Dall'alto no ma come scendi si Perché hanno cambiato i texture normali Che fanno un po' schifo Delle cose che sono a terra E quindi sembrano un po' Però Niente Vabbè Era la speranza del povero Ho capito? Della serie Oh loot Vi prego Adattemene Un po' mi serviva Piancendo Inizio a vedere cose che non ci sono in terra Roba del genere Uh Nella casa Nella casa L'ho visto adesso Che cavolo stanno facendo lì? Ma perché la gente gioca a caso Nei videogiochi? Perché giocano a caso? E perché mi sono incastrato nel ponte? Perché è un bel mondo Sono praticamente morto Anche io Stiamo correndo via? Sei di vita Che facciamo adesso? Eh Ce la possiamo fare Ci prendiamo il cecchino Ci prendiamo questo Cambiamo questo con questo È già ricaricato C'è pure un minigam Ok Chissà se ci hanno visto Occhio eh Perché ci vedono dalla casa se salti Ok Mi tiro una benda preventiva Vai Non so se saranno venuti a cercarci Sembravano belli camperoni Perché in quella casa Fermi così Eh sì 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 Io neanche li vedo Fare non ti affacciare Boh sinceramente non lo so Dai via 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 Se non li vediamo Non ha senso neanche perdere tempo No sì vabbè Il discorso è che io Ho sei di vita Ho tre bende Ti puoi consolare Se le vuoi E ho 32 di materiali Eh non lo so It's gone Ma sta andando tutto malissimo oggi Lo so Lo so Potrei morire cadendo Sì è probabile Vero? Mmh Questa costruzione è molto bella Ci possono ospitare? Non credo E poi perché per terra Trovo tutto Ah eccole le bende Vai Ok Bello Torna un minimo di fortuna Uh c'è anche un M16 blu Che però mi prendo volentieri Scusa Ok Ecco qua Ecco qua Cos'è la trappola delle bende? La trappola per Steph era questa Vieni prendi le bende Ti sparano e muori Avevamo anche visto E poi si chiama pure Asia Jeff Di Capitan Jeff Sì 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 Mi stanno prendendo in giro oggi Mi stanno prendendo in giro